non poteva finire che con carta e proprio io sì lo scalmanato della strada che prima o poi con quel rottame mi succederà qualcosa come dicevano i vicini di casa e qualcosa è successo sono fregato proprio io sì quello irriducibile quello che non aveva nessuno davanti a sé e che adesso sono in palla davanti alle due porte proprio io che con parsimonia ti facevi spogliare la delle mie male ed io che forte di essere la tua forza non riesco più a tenere la testa alta tu che senza di me non sapevi cosa fare e che adesso sai già di stare con un altro e magari è come ero io chissà adesso che fai a che penso adesso che anch'io ti penso in compagnia di qualcosa che mi aiuta a superare la notte a a a a a